L'iscio del difensore della Spezia ne approfitta Gonzales che pressa Cicizola che recupera il pallone travolgendo l'attaccante e toccando con una mano fuori aria. Il replay evidenzia il tocco. Al decimo Faraoni in azione, personale venesteso al limite dell'aria, a Buzzegoli su punizione, la merte morbida di poco fuori. Lo Spezia agisce di rimessa, Situm lanciato in aria tira per ben due volte, da Gosta due volte respinge. Ancora Spezia al quarantunesimo Catellani da 30 metri inventa una parabola velenosa che tocca la traversa. Risponde il Novara al quarantatresimo, il cross di Faraoni, Galabino entra in aria e segna. E' il quarto gol in campionato per l'attaccante.